Salve a tutti, mi chiamo Luca Cacioli, vengo da Arezzo, una cittadina in Toscana, vicino a Firenze. Il mio percorso di studi inizia diplomandomi all'Istituto Tecnico per Geometri. Successivamente mi sono iscritto all'Università di Architettura e l'ho frequentata per due anni. All'interno del secondo anno mi sono reso conto che la mia passione per la fotografia e l'immagine era superiore rispetto a quella dell'architettura, in quanto sono andato alla ricerca di un'accademia, un centro studi che mi potesse dare l'opportunità di studiare ed il da sfogo a questa mia passione. La ricerca poi è terminata appena ho conosciuto la Lava, la Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, che fin dai primi incontri con i professori, con il direttore Mauro Manetti, ho capito che era l'accademia giusta, in quanto oltre a dare la possibilità di studiare la tecnica fotografica, mi dava l'opportunità di studiare l'arte in generale. Consiglio vivamente questa accademia perché è composta da degli ottimi professionisti, da delle classi con un numero abbastanza ristretto da permettere di lavorare in maniera molto in simbiosi con i professori, con gli stessi studenti che hanno dei gruppi di lavoro fondamentali nel campo anche del fotografo di oggi. La mia più grande fortuna posso dire che è stata quella di accompagnare i miei studi accademici con la collaborazione ad uno studio fotografico fin da subito e anche che tutto oggi va avanti e questo secondo me è proprio stata la marcia vincente diciamo una grande fortuna quello di avere la possibilità di mettere in campo nella realtà tutti i studi che facevo in accademia di metterli proprio in pratica. Anche perché è fondamentale secondo me lo studio della tecnica fotografica, dell'arte in generale per avere un background più grande possibile ma ciò che conta è anche la pratica, la realtà nel mondo che poi si va a riscontrare nel mondo del lavoro. Ho dei bellissimi ricordi dell'Accademia in quanto sono quotidianamente in contatto con i miei ex professori che sono dei professionisti nel campo dell'immagine, con i miei ex studenti che come me hanno frequentato la Lava e anche con il direttore siamo sempre in contatto per scambiarci delle opinioni, per avere dei chiarimenti. Un'altra cosa fondamentale che si può avere all'interno della Lava è quella di partecipare a dei workshop, avere dei contatti molto diretti one to one con dei professionisti più grandi e già importanti nel campo dell'immagine e questo lo ritengo fondamentale perché durante il percorso di studi è molto importante avere già un approccio diciamo nel mondo lavorativo. Per quanto mi riguarda un altro consiglio che posso dare è quello di accompagnare il mondo del lavoro diciamo professionale, accompagnarlo sempre al mondo diciamo dell'arte, è un mondo più creativo che lo ritengo fondamentale perché fino a che si frequenta l'Accademia abbiamo diciamo abbastanza spazio per dar sfogo ai nostri progetti, alle nostre idee, ma dopo mi sono reso conto per fortuna o per sfortuna, ma ritengo anche questa una fortuna, di avere molto meno tempo da dedicare ai miei progetti personali, però cerco sempre di ritagliare un piccolo spazio all'interno delle giornate, all'interno delle settimane per fare anche questo perché all'interno di un lavoro diciamo più artistico, più creativo può nasce un lavoro professionale e questo è anche uno spunto, un obiettivo da raggiungere che penso che per quanto riguarda tutti i fotografi sia quello un po' il sogno del cassetto, di realizzare progetti personali che diventino poi dei lavori concreti. Questo è quello che posso dire della mia esperienza e spero che anche voi come me scegliete Lava per frequentare i corsi di fotografia perché sono molto validi e danno veramente tanti sbocchi nell'ambito artistico e nell'ambito lavorativo. Ciao a tutti!